Nome Davide Abubakar Dramenet Soprannome Saio Abuba Altezza 1,87 2,4 Ruolo Palleggiatore Opposto Numero di maglia 8 5 Come ti chiama la tua mamma? Ciato mio, che vuol dire fiato mio, respiro mio in siciliano. Abubakar Che cos'è per te la palla a volo? La palla a volo è uno sport dove io devo dare il massimo al mio compagno affinché lui possa dare il massimo a me. Passione Ruolo nello sfogliatoio? Più divertente Sono il capitano della tonalità Cosa ti piace di più oltre il volley? Giocare in video gioco Mia figlia Noemi Cosa volevi fare da piccolo? Giocare calcio Guardavo la tv e dicevo che volevo giocare nel campo con l'arancione e per me poi. Il tuo punto debole in campo? Devo migliorare la difesa. Non si svelano i punti debole di avversario. E nella vita? Un po' indeciso. Penso troppo. In quale nazione si gioca la palla a volo più bella? Brasil-Italia Meloghi Il tuo titolo di studio? Studente di tecnologia Dottor Saita Lavorato in giurisprudenza. Scaramanzie pre-gara? Ascoltare musica. Ascoltare qualche musica in particolare, mangiare qualche noce e altre che non svegliamo. Bionde o brune? Brune. Ovviamente brune. Intonaci una canzone. Nossa, nossa, assim você me mata. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. E rido, e piango, e mi scioglio con il cielo e con il fango. Ciao, giovanetto. Il tuo compagno di squadra preferito? Vito, perché è un po' divertente, come me. Il compagno di squadra che mi dà il massimo, come ho detto prima, divertendosi e accettando insieme gli errori comuni per andare avanti. L'avversario più simpatico? Il mio amico Locarello. Natanziano, cioè diciamo Natanziano. Chi è il tuo idolo? Wallace. Un bel ricordo, l'idolo sportivo nella pallavola, un bel ricordo di Gustavo Renders, centrale brasiliano. Imita un tuo ex allenatore quando si arrabbia. Abuba, andrà via. Sidi, munizzi, Sidi. Il tuo vizio? Il mio vizio è giocare un po' di videogioco. No, vado a letto tardi. La tua paura? Io ho paura di altesa. Non essere un buon padre. Qual è il tuo piatto preferito? Pasta. La pasta al pesto. Chi vince il prossimo scudetto? Tonno Caldipo. Se non sono scaramanti ce lo posso dire, secondo me è freddo. Saluta i tifosi dell'Atonno Caldipo. Ciao a tutti, sono qui, un po' di saudaggio di vedere voi. Ci vediamo presto. Ciao. Un saluto ai tifosi della Fossa di Vibbo e speriamo di vederci presto al palazzetto. Grazie.